Vigili, dipendenti comunali, ricercatori, sono ancora milioni gli italiani che partecipano ai concorsi pubblici. Il punto con Umberto Gambino. Lavorare nella pubblica amministrazione torna a essere un obiettivo per chi cerca un impiego. Due milioni solo nell'ultimo biennio e i candidati che hanno partecipato ad almeno un concorso. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Formez? C'è la conferma che gli iscritti alle selezioni sono in prevalenza donne e due terzi sono residenti al sud. In media 102 candidati per ogni posto assegnato. Sempre negli ultimi due anni però circa la metà di chi aveva fatto domanda non si è presentato il giorno delle prove. 7 su 10 assenti per i profili più specialistici. L'età media di chi si candida è di 40 anni mentre 8 su 10 sono laureati. Un dato che fa riflettere. Sono in aumento i vincitori di concorso che poi rinunciano. Fenomeno dovuto alla cannibalizzazione tra procedure per profili assimilabili a vario titolo. In definitiva per accettare il nuovo posto vinto per concorso prevalgono due criteri. La stabilità del rapporto di lavoro e la sede di servizio. 4 candidati su 10 partecipano a più di un bando lasciandosi così liberi più opzioni se riescono a superare le prove. Un fenomeno che, concludi il rapporto, contribuisce a lasciare scoperto oltre il 16% dei posti messi a concorso.